ma non tanto ne perché tanto oggi più cioè devi calcolare vedi devono restare tutti i denti a terra quindi se intanto tu sassoni giganti vedi come si fa provi la pressione di solito è 155 ormai no anche meno quando è bagnato 02 50 quando è asciutto 03 50 fino a uno così qua che spettacolo no ma c'è anche più piccolo questo qua lo spettacolo dove l'hai preso porca trota guarda la mia che stigata o cazzo è una caldaia ma no ma basta devo fargli fare una foto 2 e mezzo 2 e mezzo 2 e mezzo era 0 0 5 2 e mezzo 0 2 e mezzo è a posto allora è tutto troppo grosso c'ha il figaro deve entrare dritto